Dove vai? A cercare quel prete. Sta' attento. Ci tengo alla prete. Cardaura! Questa! Poi ve lo spiego! Ma cos'è per te la discoteca? Guarda, adesso ti dico una cosa seria. Un inedito Jerry Calato. Dovessi Jerry? Nella parte di se stesso. Ma sei scemo? Ci porta in un mondo. Dimelo, dimelo che mi senti, dimelo, dimelo. Dove la notte è sempre giovane. Io ho già un ragazzo. Io invece no. Con un cast d'eccezione. In prima visione Italia 1, ragazzi della notte. Giovedì 20 e 45. Facile Panasonic Dual Band. Di Omnitel. Da Borotalco, alto là al sudore. C'è il nuovo deodorante con microtalco che assorbe il sudore. Guarda la differenza sul sudore di una foglia. Un deodorante tradizionale lascia il bagnato. Nuovo Borotalco, un asciutto pulito. Nuova linea di odorante Borotalco. Nuovo Borotalco, alto là al sudore. Pantopan Island, la vacanza che lascia il segno. Lene Marlin, la nuova stella del nord. Play in my game, l'album di Lene Marlin. Contiene il numero uno Unforgivable Singer. Basta, ho un mal di testa. La tratti bene la sua testa. Moment 200 e il mal di testa ti passa in un momento. Da oggi anche in compresse e fervescetti. È un medicinale povere controindicazioni ed effetti collaterali. Leggere attentamente il foglio illustrativo. non somministrare sotto i 12 anni. Dal tuo latte detergente ti aspetti solo che porti via il trucco. Ma pensa se riducesse anche le piccole rughe. Oil of Olatz, la linea di idratanti più venduta negli Stati Uniti, presenta il primo latte detergente ai beti idrossi, che aiuta a ridurre le piccole rughe in soli 16 giorni. Oppure Olatz ti rimborserà. Il nome? Latte Livigante Rigenerante da Oil of Olatz. La prova che anche un latte può farti apparire più giovane. Allarme colore. L'acqua può eliminare fino all'80% del colore. Pantene Pro V-Color crea il primo fissa colore pre-shampoo. Usalo prima dello shampoo per aiutare a proteggere il colore dallo sbiadimento. Nuovo fissa colore pre-shampoo da Pantene. Stai facendo le pulizie. Sì, ma... Ma nello sporco. Ci sono i batteri. Che tornano a posarsi dappertutto. E allora? Prova nuovo Ajax Igene Attiva. Tutta la forza pulente di Ajax. E in più rimuove il 99,9% dei batteri. E aiuta a tenerli lontani fino a 24 ore. Nuovo Ajax Igene Attiva. Pulito e protezione. Fino a 24 ore. Eurocard. Come collezionare schede telefoniche autentiche dell'Europa Unita. Con ogni fascicolo ben quattro schede e il catalogo per le quotazioni. In più sei esclusive schede attivabili extra collezioni. In edicola da non perdere. È un'idea hobby and work. L'estate in musica è solo Festival Bar. Secondo appuntamento dall'arena di Lignano Saldiador. Un'altra serata di grande festa sul palco del Festival Bar. I suoni, i ritmi, i colori più belli della tua estate in musica. Con i protagonisti assoluti di tutte le classifiche. I più gettonati. I più ballati. I più amati. Con Fiorella, Alessia Marcuzzi, Festival Bar. Martedì 20.45, Italia 1. Un appuntamento. Assolutamente incredibile.